Ciao a tutti ragazzi, da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frusinone vince grazie a un calcio di rigore, una partita contro il Cosenza, calcio di rigore trasformato da Charpentier, dopo che Tribuzzi aveva sbagliato l'idea di come proseguire la sua azione, avrebbe dovuto rossarla perché c'erano diversi giocatori in aria, invece decide di voler dribblare l'avversario e trova un calcio di rigore inaspettato dopo una partita che il Frusinone, a livello di controllo del gioco, aveva gestito senza mai essere però pericoloso. Il Cosenza dall'altro lato ha giocato di contropiede e ha avuto le occasioni migliori, dobbiamo dirlo, con Minelli decisivo, in un paio di circostanze, ad impedire quindi di andare in svantaggio. Quindi una partita che ha visto un frusione sterile, perché pur controllando di più il gioco, come al solito siamo sempre molto inabili quasi a calciare in porta, cerchiamo sempre di arrivare sulla linea di fondo campo, poi metterla in mezzo sperando che arrivi qualcuno. Nessuno che prende l'iniziativa di stare al limite dell'aria e provare a calciare, si vuole sempre arrivare sulla linea di porta, e questa è una cosa fastidiosa, perché magari c'è lo spiraglio per poter calciare e non tiri. Ci ha provato, mi sembra, Rodien, non riuscendo a inquadrare lo specchio. Ci poteva provare Bologa anche lui e non prova mai a calciare, forse una volta però gliel'hanno ribattuta. Peccato, perché si potrebbero creare situazioni interessanti, però poi non si concretizza in quel modo. Quindi un frusione che forse ha fatto un pochino di fatica in più del previsto, perché comunque il Cosenza, sì è vero, è nelle posizioni basse, però gioca in una mania scorbutica questa squadra, quella allenata da Bisoli, come proprio il suo allenatore. Ieri c'era Palmiro, l'avrei voluto stendere là in mezzo al campo, o riusciva a conquistare falli assurdi, e quelli che faceva lui non li fischiavano mai. Alla fine ha rischiato di prendere il secondo giallo, il proprio da attore, ha inscenato un suo infortunio sul fallo che ha commesso lui per farsi sostituire, o in quel momento, o successivamente la seconda munizione che meritava da tutta la partita, perché veramente è stato ammonito dopo troppo tempo, quindi tutti i falli che aveva fatto in precedenza o non erano stati fischiati o non erano stati sanzionati con l'ammunizione, solo dopo un bel po' ha preso l'ammunizione. Però veramente, senza che di contropiede, rieschiato di farci male. E lì, anche per delle situazioni in cui mandavamo il pallone indietro proprio ad una velocità assurda, come fossero degli assist veri e propri, quindi anche lì un pochino di confusione nel complesso. Altre situazioni in cui magari potevamo mettere palla a terra, da un rinvio, non c'era nessuno a marcare, almeno in tre circostanze, non c'era nessuno a marcare il giocatore del Frosinone, in questione chi era, e non si metteva palla a terra, ma la si rispazzava un'altra volta col pendola di testa, o con il piede. Assurdo. E lì si potevano creare situazioni a nostro favore, invece riconsegnavi praticamente la palla al cosenza, un po' così per fretta, perché quando il Frosinone gioca di fretta non riesce mai a essere incisivo come quando invece ragiona, e lo fa e ragiona in tranquillità. Ieri abbiamo giocato di fretta, di fretta, sbagliando tanti appoggi, che potevano essere evitati. Per fortuna ecco che è arrivato quel calcio di rigore alla fine, in una partita che finiva 0-0, dove tu hai avuto il rimpianto di non aver mai tirato in porta. Purtroppo è questo. Però ci sta. Il Frosinone fino ad adesso non aveva mai vinto una di queste partite sporche, così magari aveva sempre giocato bene, magari non raccoglieva punti. Invece stavolta ci è andata bene, meno male, perché non può essere che passi sempre agli altri tutto bene, anche quando non dovrebbero raccogliere punti, e noi che giochiamo, facciamo, poi vestiamo col cerino in mano. Quindi una vittoria che mi prendo con tutte le forze, perché per una volta, pur non essendo pericolosi, prendiamo i tre punti. Domenica andiamo ad Ascoli, quindi una piena sfida in zona playoff, e partita che si servirà per capire come il Frosinone uscirà da queste partite ravvicinate l'una di seguito all'altra. Per questo video è tutto, vi lascio in descrizione la pagina Facebook e la Tena dell'Origio Azzurri, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!